Eccoci, ben ritrovati con il consueto appuntamento domenicale con il tappo in vite. Umberto ha estratto per me il tappo della cantina Antigori. Il loro claim è vini sardi che profumano di mare ed è esattamente così. È un contesto veramente vincente dove i vigneti si trovano proprio vicino al mare e tra l'altro la cantina prende il nome da un uraghe che si chiama proprio Antigori. Quindi in questo contesto ho visto l'innovazione che si unisce alla tradizione. Speriamo appunto di poter ben presto ritornare in questa realtà per scoprire altri racconti che riguardano questa azienda. E adesso, come di consueto, mi aspetta l'estrazione per Umberto. La cantina selezionata per te, Umberto, è degli amici di Giva. Alla prossima di tappo in vite.